Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Io sono sempre Gratio Sphere ed oggi andremo a pulire il golf cart. Nel frattempo vi invito a mettere subito un mi piace, di iscrivervi al canale, condividere il video e commentare, come sempre, facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo gioco. Il mio povero golf cart ha bisogno di una lavata. Avrei sentito dal mio gatto Ulisse che è scomparso. Siamo tutti preoccupatissimi e manca poco alla cerimonia, questo è il sindaco, ve lo ricordate? Giuro di averlo visto sul campo da golf che si divertiva con le ninfee del lago vicino alla tredicesima buca, par 3, ma faccio sempre un birdie. Quando mi sono reso conto che era solo una carpa chiassosa, ormai era troppo tardi. Ho schiacciato il freno e sono rizzolato a capofitto giù per il pendio. Non preoccuparti, i dottori mi hanno dato il via libera, hanno detto che non avevano mai visto nessuno riprendersi da un incidente così lieve in così poco tempo, ma il golf cart ha bisogno di una bella ripulita. Vai andiamo a vedere i dettagli, i messaggi, eccoci qui e iniziamo il lavoro con il golf cart. Anche questo dovrebbe essere abbastanza veloce e come sempre vi ricordo che durante la pulizia io parlerò relativamente poco per lasciarvi gustare il rumore ASMR di questa idropulitrice e la vista dello sporco che se ne va. Non dovrebbe esserci alcun obiettivo in questo livello, nessun obiettivo. Anche questo dovrebbe essere abbastanza veloce e il rumore di questa idropa. Anche questo dovrebbe essere abbastanza veloce e il rumore di questa idropa. Anche questo dovrebbe essere abbastanza veloce e il rumore di questa idropa. Anche questo dovrebbe essere abbastanza veloce e il rumore di questa idropa. Anche questo dovrebbe essere abbastanza veloce e il rumore di questa idropa. Anche questo dovrebbe essere abbastanza veloce e il rumore di questa idropa. Anche questo dovrebbe essere abbastanza veloce e il rumore di questa idropa. Anche questo dovrebbe essere abbastanza veloce e il rumore di questa idropa. Anche questo dovrebbe essere abbastanza veloce e il rumore di questa idropa. Anche questo dovrebbe essere abbastanza veloce e il rumore di questa idropa. è tutto, al prossimo video!